Buongiorno a tutti, oggi preparo una torta di nocciole. Mi occorrono mezzo chilo di farina doppio zero, 100 ml di olio d'oliva, 100 ml di latte, 3 uova, una bustina di lievito per dolci, 200 g di nocciole tritate, 200 g di cioccolato a scaglia e 200 g di zucchero. Inizio. Dopo aver montato bene le uova, aggiungo il latte, l'olio, le nocciole, cioccolato e gli amalgamati. Metto il lievito nella farina. Piano piano vado a mettere farina e lievito nelle uova. Buongiorno. Grazie. Dopo aver fatto prendere tutti gli ingredienti, ho imburrato una teglia di 36 cm di diametro. La metto in forno caldo statico a 180 gradi, dopo che si è raffreddato, dopo 20 minuti di cottura, rimpiattiamo, mettiamo un po' di zucchero a velo sopra, la metto in forno caldo. Grazie. Grazie.